I testi sono quelli della tradizione contadina umbro-laziale, filastrocche, stornelli e canti d'amore. All'Umbria Folk Festival di Orvieto risuonano le note di organetti, fisarmoniche e tamburelli. Ecco l'orchestra giovanile di musica popolare diretta da Ambrogio Sparagno. Sul palco un vulcano di energie. L'interesse per la musica popolare in Italia è fortemente connesso alla riscoperta che i ragazzi giovani hanno portato negli ultimi anni nei confronti di questa musica, soprattutto nei confronti di questi strofegni. Un'orchestra giovane, non solo perché è nata nel 2012 dopo una serie di audizioni pubbliche, ma anche perché è formata da 20 ragazzi che hanno deciso di riscoprire il vecchio patrimonio dei canti popolari italiani. La fine del mondo è piùRA. La fine del mondo è più Grazie.